Penso che sia francamente gravissimo che in Italia ci siano funzionari dello Stato che hanno passato il loro tempo a violare la legge facendo delle verifiche su cittadini comuni e non al loro piacimento per poi passare queste informazioni alla stampa e particolarmente ad alcuni esponenti della stampa perché voglio dire utilizzare così le banche dati pubbliche non c'è tra niente con la libertà. Le parole di Giorgia Meloni come segno dello scontro politico sempre più acceso sulla vicenda dei dossier l'inchiesta della procura di Perugia sugli accessi abusivi da parte di un finanziere alla banca dati della direzione nazionale antimafia, oltre 800 ai danni di politici e non solo. Certamente è un fatto grave, il diritto alla privacy è diventato un'aspirazione metafisica commenta il ministro della giustizia Nordio che non si pronuncia su un'eventuale regia occulta è molto difficile dirlo poiché i confini tra iniziativa individuale e iniziative programmate da altri sono di difficile definizione. Il centrodestra che registra il numero maggiore di soggetti attenzionati tra cui vari ministri si sente parte lese e va all'attacco il vicepremier Salvini si chiede se i vertici della guardia di finanzia sapevano che un loro sottoposto effettuava quegli accessi illegali faremo denunci ed esposti affinché chi di dovere indagli avverte. La segretaria PD Schlein non minimizza e parla di scandalo di gravità inaudita su cui occorre fare estrema chiarezza. Ma nel mirino finisce la stessa direzione nazionale antimafia? Da Forza Italia Gasparri chiede un'ispezione immediata fino ad ipotizzare un commissariamento della struttura difesa spadatrata dal PD e dai 5 Stelle. È inaccettabile la virulenza di chi fa intendere che la procura antimafia non sia il luogo dove si contrasta la mafia. In questa vicenda è parte l'ESA, replica il Dem Verini mentre la 5 Stelle Baldino accusa la maggioranza di grottesco vittimismo. Sotto accusa da parte del centrodestra l'attuale deputato 5 Stelle Caffiero De Rao che presedeva la direzione nazionale antimafia quando cominciarono gli accessi illegali alla banca d'atti. Italia Viva ne chiede l'audizione in commissione antimafia di cui Caffiero De Rao è vicepresidente. Proprio in commissione antimafia domani verrà sentito su sua richiesta l'attuale procuratore nazionale Melillo mentre giovedì sarà la volta del capo della procura di Perugia Cantone, titolare dell'inchiesta. Entrambi hanno chiesto di essere ascoltati con urgenza non solo dall'antimafia ma anche dal Copasir il Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica che li ha convocati giovedì e poi dal Consiglio Superiore della Magistratura.